Ho scelto Aurelio Dell'Aurentis, la Fil Mauro, l'ho scelta perché ha una solidità economica, ho scelto Aurelio Dell'Aurentis per la competenza sportiva, perché il nome Aurelio Dell'Aurentis porta con sé la competenza, come ci ha tenuto a precisare anche lui nella lettera di accompagnamento che ha fatto. Ho scelto Aurelio Dell'Aurentis perché gestisce una società di calcio in Serie A che partecipa alle Coppe Europee da tanto tempo e proprio perché sta in Serie A ammino potenziali conflitti di interessi con il percorso che spero la squadra di calcio del Bari potrà fare nei prossimi anni.